benvenuti nella nostra cucina oggi vi preparo i saltimbocca alla romana gli ingredienti sono 8 fettine di carne di vitello ricavate da tagli quali noce scamone o fesa 8 fettine di prosciutto crudo 8 foglie di salvia olio extravergine d'oliva vino bianco farina 40 grammi di burro stecchini sale e pepe prepariamo adesso i nostri saltimbocca la prima cosa da fare è battere leggermente la carne per renderla più sottile una volta battute le fettine di carne vi adagiamo sopra le fettine di prosciutto completiamo tutte le fettine e vediamo sopra una foglia di salvia che fermeremo con uno stecchino ricordiamoci le fettine dovranno avere un peso all'incirca di 70 grammi passiamo adesso alla cottura dei saltimbocca come prima cosa scaldiamo il burro in una padella antiaderente una volta che il burro in caldo infariniamo leggermente i saltimbocca dal lato della carne e cominciamo a cuocerle invece dal lato del prosciutto ricordiamoci deve essere leggermente infarinata a questo punto aggiungiamo sale e pepe ricordiamoci che il prodotto è salato quindi dobbiamo metterne giusto un po' e se possiamo rigirarle a questo punto possiamo sfumare con il vino bianco lasciamo evaporare il vino lasciamo cuocere qualche minuto in modo che la salsa tra l'altro si restringa il piatto è pronto potete servirlo con patate saltate spinaci al burro altri tipi di verdure glassate da cucina con noi è tutto un saluto da sonia alla prossima ricetta